Vorrei andare sull'acqua mai in altro sport, ovvero sia nel canottaggio. Nel canottaggio il singolo è un duello di epiche proporzioni. L'inglese Beresford, che tra l'altro sarà uno dei più grandi canottieri di tutti i tempi, è un muratore di Filadelfia di nome Kelly. Questo è il classico, ennesimo caso, di irlandese d'America, wiscaccio, destro facile, onnisport, perché non c'era uno sport dove non andava bene, fisicaccio, bell'uomo e un canottiere di vaglia. Uno contro uno nel canottaggio, vince lui. Beh, dici, medaglia d'or, però mi aspettavo di me. C'è il muratore, beh, c'è la storia. La vera prudezza Kelly la farà due anni dopo. Voi dici, strano, non è un altro anno olympico, c'erano i mondiali, no, è il 50% a cui si deve la nascita di Grace. Grace Kelly ti dice niente. Assolutamente. A oggi, la figlia del muratore di Filadelfia, oro nel singolo nel canottaggio ad Anversa, è il simbolo perenne dell'eleganza femminile. Non te l'aspettavi dal muratore? Non te l'aspettavi dal muratore.